Il centro di riabilitazione Teri offre riabilitazione e fisioterapia completa di percorso in piscina calda a 34 gradi. Ti aspetta Cava dei Tirreni in via Gino Palumbo numero 19. Per lo sporting cavese occorre una svolta sia tecnica che caratteriale. La squadra di calcio a 5 è allenata da Vincenzo Iannone nella partita scorsa persa per 7 a 4 proprio nei minuti di recupero contro una Gerola forte. Troppo a lungo ha subito il gioco degli avversari. Ora i biancoazzurri occupano il penultimo posto nel campionato di C2 con il minimo del vantaggio su Solofra che è ultima. I cavesi hanno cercato di metterla sul piano dello scontro fisico. Hanno espresso gioco rude e virile con della Brenda che ha fatto azione di disturbo. Sono stati anche in doppio vantaggio di gol ma è durato pochissimi minuti. Rispetto agli avversari i metelliani hanno inevitabilmente avuto delle difficoltà a costruire e proprio nel momento della verità non sono stati molto abili nel mantenere il risultato. Hanno probabilmente inciso sulla qualità del gioco le assenze, su tutte quelle di bisogno, ma anche quando l'organico era più nutrito i biancoazzurri hanno fatto fatica a fare il risultato. Dovrebbero costruire la propria classifica in casa, ma in realtà nella palestra di Santa Lucia non vincono più da due mesi e la Gerola ha dimostrato di meritare il quarto posto che ha in classifica. Iannone sostiene che a questo punto necessita un cambio di marcia per lo sporting, a cominciare dalla prossima gara che dovrà giocare sul campo della Caggianese. Oggi abbiamo sbagliato noi a non gestire il risultato. La partita 2-0 non la puoi finire il primo tempo 2-2, poi non si possono prendere dei gol del 3-2 in maniera così sciocca. Poi siamo stati bravi ancora a recuperare la partita a fare 4-4, poi abbiamo sbagliato nella ripartenza nel fare 5-4 e abbiamo regalato il gol del 5-4 a loro. Mi è sembrato di aver colto questo aspetto che per voi mettere palla a terra e cercare di fare gioco è un po' difficile, almeno per quello che si è visto oggi. Si può imputare questo fatto per gli assenti? Purtroppo noi perdere due giocatori come Cristian Bisogno e Marco Bonadias, due giocatori che comunque hanno un po' di qualità in più, è importante. La rosa è quella che è, stiamo cercando di giocare. Abbiamo fatto il possibile anche oggi, purtroppo gli episodi non girano bene perché siamo stati un po' sfortunati, però loro sono una bella squadra. A questo punto per la partita successiva, che cosa vi aspettate? Si può fare di più oppure le potenzialità dello Sporting al momento sono queste? Dobbiamo fare di più, dobbiamo pensare a fare punti, se la classifica si fa brutta.